Detestano il turismo di massa, sono esigenti in fatto di alberghi e ristoranti, abbinano l'arte agli affari, amano wellness e terme. Stiamo parlando dei turisti cinesi di fascia medio alta, che rappresentano l'ultima frontiera dell'offerta turistica toscana, sulla quale la Regione Toscana Promozione hanno costruito un nuovo progetto, Tourist Experience Design, presentato a Firenze. Per conquistare i nuovi milionari cinesi si punta a costruire una rete di operatori toscani specializzati, in grado di dialogare con la Cina e di offrire ai viaggiatori una vacanza memorabile. I turisti cinesi apprezzano moltissimo un prodotto di alta qualità e quindi sono estremamente interessati appunto a quello che è legato anche molto all'enogastronomia, al territorio, all'ambiente, al paesaggio, essendo però anche interessati appunto allo shopping, a tutto quello appunto per cui è famosa la nostra Regione e per cui è famoso il nostro Paese. Dobbiamo lavorare per combinare appunto queste esperienze e quindi per essere in grado di offrire tutto un panel di prodotti che possono essere sempre più attrattivi e sempre più incentivanti. La Toscana ha aderito con Puglia e Veneto anche al progetto Travel, di cui è capofila la Regione Marche, che si pone l'obiettivo di elaborare un'offerta turistica unica interregionale su misura per i visitatori cinesi. Nel 2010 la Toscana ha registrato un vero e proprio boom di arrivi dalla Cina, 341.000 presenze, l'1,6% del totale, una percentuale doppia rispetto a quella nazionale, ma sono ancora troppo pochi considerando i 132 milioni di potenziali turisti cinesi che potrebbero arrivare in Toscana.